Sono Marika Scafatti dell'Emanuela Loi e con questo progetto di vagone FMD stiamo facendo alternanza scuola-lavoro e questo progetto si tratta in birario F e aiutiamo i ragazzi nigeriani a cercare di introdursi nel mondo del lavoro. I due problemi che affliggono questi ragazzi sono provare l'italiano e introdursi nel mondo del lavoro appunto e noi stiamo cercando di aiutarli facendo un curriculum, cercando di capire quali sono stati i loro aspetti nella loro vita prima di venire qui in Italia e quando sono stati nei loro paesi. Per esempio il mio ragazzo che mi stava aiutando si chiama Isas e viene dalla Francia e lui faceva la magazziniere prima nel suo paese e sa parlare più o meno il francese e l'italiano molto bene.